Salve a tutti leggendari e bentornati su The Legends of Jimmy. Come al solito vi ricordo di venirvi a unire al gruppo TelegramPX, Fenix, Dragon Ball Legends per parlare con noi di tutto quello che riguarda Dragon Ball Legends e appunto farvi dare una mano su tutto quello che riguarda il gioco. Oggi c'è stato l'aggiornamento, l'aggiornamento PvP ma in realtà hanno aggiunto altre cosine. Innanzitutto hanno aggiunto nuovi stage per Veget farmabile, quello free to play, se non sbaglio fino a livello 70 che attualmente non ho ancora toccato. Quindi ragazzi qualche piccola crono ma la possibilità di portare Veget a 5 stelle. Cosa hanno aggiunto ancora? Hanno aggiunto di nuovo la ROAD di Gotenks. Quindi ragazzi soprattutto per chi ha trovato Veget e ovviamente con Veget farmabile, quello rosso, e avete comunque un Team Fusion completo, quindi con Gogeta e Gotenks Super Saiyan 3, il consiglio ovviamente è di farmarvi Gotenks, perché più lo portate in alto con le stelle e più lui boosterà il Team Fusion. Quindi vi consiglio assolutamente di farlo. Quindi non sono state aggiunte cose eclatanti, però abbiamo ovviamente alcune altre nuove missioni per i ticket, ma non ovviamente quei ticket che pensiamo noi, non sono assolutamente quelli. Ma ragazzi la cosa più interessante in assoluto è stata l'aggiunta della Challenge Rush. Che cos'è la Challenge Rush? Se clicchiamo e apriamo è praticamente un insieme di 5 sfide in cui dobbiamo andare in monocolore o medio. Dobbiamo sconfiggere 3 avversari di un solo e unico colore. Quindi per esempio se prendiamo la Challenge Purple che vi mostrerò alla fine del video che è stata completata, avremo come avversari Chilled, Cooler e Golden Freezer, tutti e tre di colore viola. Livello 3500, SP, 5 stelle, quindi delle bestie. E la cosa bella è che la ricompensa saranno 200 crono per ogni sfida, quindi arriveremo a 1000 crono, quindi ragazzi va fatto assolutamente, e poi un equipaggiamento molto particolare perché è indirizzato per le Extreme, quindi personaggi Extreme di un unico colore. Quindi ad esempio Extreme Blue, Extreme Rosso, Extreme Giallo, bla bla bla. Questi poi oltretutto sono degli equipaggiamenti davvero ottimi perché danno doppio boost. Che cosa si intende? Ve lo faccio vedere subito perché questi equipaggiamenti li possiedo tranne uno perché l'hanno aggiunto esattamente oggi. Andiamo a prendere esattamente anche questo Cell qui. Lo vediamo, abbiamo Strike Defense e Blast Defense doppio, appunto, quindi con il primo slot, Strike Attack e Blast Attack doppio e poi Salute per gli Extreme Purple. Quindi ragazzi è assolutamente consigliabile fare queste sfide, quindi vanno assolutamente fatte, però ci vogliono i personaggi al massimo, quindi livello 3598% e un minimo di costruzione del team. Cioè il team monocolore è la cosa più semplice, però non è perché per esempio Bardak e Blue allora lo utilizziamo come boost blue. No, dobbiamo cercare di utilizzare tre personaggi di un certo tipo, quindi personaggi main, personaggi davvero forti di quel colore e intorno mettere tre booster interessanti. Di solito i booster colori sono belli, sono interessanti perché hanno un doppio boost alle doppie statistiche, soprattutto perché molti li possiamo avere, li possediamo anche per quanto riguarda l'Extreme a 5 stelle, e quindi hanno delle statistiche davvero ottime. Per qualsiasi consiglio ovviamente venite sempre nei commenti o comunque nel gruppo PX. Ragazzi, queste sono davvero cose interessanti. Perché farmare gli equipaggiamenti soltanto per l'Extreme? Ragazzi, a luglio ci sarà una Battle Royale esclusiva sui personaggi Extreme. Quindi, mi raccomando, non perdiamo quest'occasione, e iniziamo a prendere confidenza con questi personaggi Extreme. Mo' ci sarà un nuovo bilanciamento, speriamo, a breve, e quindi dobbiamo assolutamente farla. In più, ci danno mille crono, che non è per niente male. E' stata anche, diciamo, sono stati aggiunti i nuovi stage per l'Ultra Space Time Rush, con il boss finale dell'ultimo stage. Nel boss ci sono ben quattro personaggi. Attenzione, perché da come proviene dal datamine della Guruteca, quindi un grazie a UDK, potrebbero esserci delle news più avanti per quanto riguarda la costruzione di un team. Quindi dei supporti in particolare all'interno del team. Ora, magari sono solo speculazioni e altro, però l'ultimo boss presenta quattro personaggi. Non sappiamo se possa essere una specie di tag, quindi si dà tipo il cinque a un personaggio ed entra un personaggio in particolare, o se semplicemente quel quarto personaggio è un booster per gli altri tre. Però non si è mai visto all'interno di questo gioco l'avversario con ben quattro personaggi. Quindi ragazzi, queste sono le news di oggi principalmente, penso di non essermi dimenticato nulla, e mi raccomando ragazzi, adesso vi lascio con il video della Challenge Rush di colore viola. Se ne volete di più, come vi dirò alla fine del video, fatemelo sapere nei commenti. Ragazzi, per la Rush di colore viola, quindi usando soltanto personaggi gialli, il team che ho utilizzato io è stato più che altro un team per scherzo, perché che ho detto? Ho detto, io ci provo, vado lì, al massimo perdo, e la rifaccio giusto per vedere la difficoltà del team. In realtà il team è fatto bene soltanto per due terzi, perché abbiamo Piccolo Extreme, che quindi è un Extreme, ci vuole sempre nel team per completare la missione, Cell, che ovviamente è probabilmente il giallo più forte di tutto il gioco, e Goku Super Saiyan della Family Kamehameha, che appunto l'ho messo lì perché ho detto, almeno non avevo altri personaggi a 3000 gialli, avevo Goku bambino, ma almeno se mi ammazzano loro, sicuramente se mi ammazzano lui, e sicuramente me l'avrebbero ammazzato, prendo un boost per gli altri due personaggi. Quindi andiamo in battaglia, andiamolo a vedere. In realtà il combattimento alla fine è durato anche abbastanza, perché comunque sono arrivato praticamente al time up. Vediamo che io la prendo veramente veramente per scherzo. In queste modalità bisogna cercare in tutti i modi di fare danno, ma anche di fare pochi errori, perché comunque fanno molto meno danno rispetto alle challenge, a mio avviso, i personaggi, e rispetto alle challenge che noi conosciamo al termine delle varie road, o dei vari eventi. È commesso fare qualche piccolo errore rispetto alle challenge, che comunque, ahimè, bisogna completarle entro un certo orario, quindi entro un certo minutaggio. Però in realtà è stato anche abbastanza divertente. Goku all'inizio non prendeva enormi danni, da Cilled ovviamente, se fosse stato Freezer Final Form, avrebbe disintegrato molto probabilmente. E quindi, io andavo, attaccavo, e ho cercato il più possibile di prendermi il Rising Rush, perché ho detto, tanto se deve morire, morire per morire, mi prendo innanzitutto il Rising Rush. Quindi ho fatto, come tecnico, ho utilizzato il prendermi il Rising Rush con Goku, e poi, ovviamente, non azzardare nessun cambio, ma farmi, diciamo, farmelo uccidere, in modo tale da prendermi i vari boost per gli altri personaggi, perché ovviamente, quello era il mio intento. Quindi ho detto, io ci provo, vado ad utilizzare, semplicemente, due personaggi, con Piccolo Extreme, che sfiora i 700.000 di punteggio totale, fortissimo, ce l'ho a 6 stelle, come avete visto, e Sella a 5 stelle. Quindi da qui in poi è iniziato il vero e proprio scontro, il vero e proprio scontro della Challenge. Ovviamente, andiamo a fare un Rising Rush, lo avrei potuto fare con Sella il Rising Rush, però, infatti, speravo che morto Goku mi uscisse Sella, ma in realtà mi è uscito Piccolo, e non mi andava di fare subito uno Switch, perché? Perché sapevo che sarebbe andata per le lunghe la battaglia, in realtà non sapevo avrei vinto, ma comunque, sapevo, sarebbe andata per le lunghe la battaglia, e quindi non mi andava di fare subito uno Switch, e perdermi 9 secondi di Piccolo, che aveva un Vanishing, e comunque qualche danno avrebbe potuto farlo. Quindi il Rising Rush l'ho fatto con Piccolo, non l'ho ucciso Chilled, ma va bene. Qua vediamo che Cooler mi fa la sua mossa, e mi toglie mezza vita a Sella. Il Rising Rush, ho utilizzato il Vanishing per gran fortuna, e lui non mi fa Vanishing, quindi io vado con le Strike tranquille, gli tolgo un bel po' di vita. Tenete a mente la vita che aveva Sella, la vita che aveva Sella, e che ha Sella adesso, perché ho detto è già finita, cioè nel senso Cooler manco l'ho ucciso, è già finita la battaglia. Guardate la vita che ha Sella, 372k, e tra poco ci riaggiorniamo su quello che succederà alla vita di Sella, voi ne sapete sicuramente qualcosa. Già con Piccolo ho recuperato HP, per Sella stesso appunto, però ovviamente l'avrei potuto fare successivamente, quando magari Piccolo aveva un po' meno di vita, in modo tale da recuperare un po', tipo adesso l'avrei potuto fare, così recuperavo sia Sella che Piccolo, però non fa niente. Quindi Freezer vabbè mi va di Ultimate, e guardate quanto mi toglie comunque a Piccolo, che è un bellissimo danno. Vado di Special Move, non gli tolgo praticamente nulla. E continuo ad attaccare, e metto in campo Cell. Quindi Cell già con il recupero suo che ha, quando sta comunque in Standby, e quello di Piccolo, ha preso già il doppio degli HP che aveva poco fa. quindi aveva 300.000, e siamo tornati a 800.000. Ragazzi, mostruoso, Cell è mostruoso. E comunque in ogni caso, per queste Challenge, vi ripeto e vi ricordo, che i personaggi monocolore servono tantissimo. Quindi stiamo andando avanti, io a questo punto decido di eliminare, del tutto, Golden Freezer. Andiamo con il Racing Rush. Devo dire una cosa, il Racing Rush fino a mo' non mi è mai stato parato, neanche una volta, nei tentativi che ho fatto. In realtà questo è l'unico tentativo che ho fatto, con questa Challenge viola, l'ho fatto così, perché non ho tantissimi personaggi al 3000 ancora, e nell'altra Challenge che ho completato, quella di colore rosso con i personaggi blu, l'ho fatto due volte, perché la prima volta, ragazzi, è stata un'agonia, perché mentre stavo in combo strike, lui ha deciso di interrompermi la combo con Racing Rush, cosa impossibile, va contro regole del gioco, ma va bene. Io ci sono stato, ho perso, l'ho rifatto, ho vinto, quindi non è tanto quello un problema. Ora, utilizziamo appunto la salvezza a parte di Cell, andiamo lì, diciamo, contrattacchiamo, e togliamo anche la barra, la prima barra a cooler. 54 secondi, Cell è tornata a 1.058.000 di vita. È inutile dirvi la felicità di questa cosa. Azzardo con lo strike, scontro di strike, 995 so già di aver vinto, quindi per fortuna mi è andata abbastanza di lusso, ricarico, perché attualmente mi serve più chi possibile, perché il mio obiettivo è di quantomeno portare cooler con la vita più bassa. Cioè, 3 spere del drago per poter fare il Racing Rush, e la speranza ovviamente è che mi escano più pallette possibile per fare il Racing Rush. Qui lui mi fa una finta, un fake strike, diciamo azzardo che fosse un fake strike, andiamo di strike insieme, uno scontro, lo vinco, per fortuna il valore era bassissimo, perché ovviamente il lag mi è padrone. Guardate. Boom. Mi prendo il Racing Rush in faccia. C'è pochissimo da fare. Mi prendo il Racing Rush in faccia, ma tanto lo sapevo che la partita sarebbe finita, cioè che non avrei mai potuto vincere con solo i due personaggi. Gli parlo il Racing Rush, ragazzi, pazzesco, e guardate Cell. Guardate Cell. Quindi io ancora ho un Vanishing con piccolo, mi ricarico, cioè mi ricarico, utilizzo la special skill, la carta verde, Cell ha quasi tutta la vita. È tornata a 1.300.000 di vita. Cioè praticamente un nuovo personaggio. Ho un nuovo personaggio mostruoso. 19 secondi alla fine. Ragazzi, io tento il tutto per tutto. Vado con la Blast, per la palletta. Continuo ad attaccare, perché tanto Cooler, nel Key ce l'ho, Cooler lo elimino, e allora a 13 secondi, prego che ci possa essere una palletta. Vado, Vanishing su piccolo, Piccolo muore, ma lui il Vanishing l'ha utilizzato. Rising Rush a 11 secondi dalla fine. 10 secondi dalla fine. Per fortuna, ovviamente, il Rising Rush va a segno, e... e ce la facciamo. Quindi, in realtà, 10 secondi dalla fine, è stato qualcosa di incredibile. È stato qualcosa di incredibile. La challenge, appunto, è stata completata. Poi, l'equipaggiamento che mi viene dato, è un equipaggiamento terribile, e va benissimo così. Quindi, ragazzi, è stata veramente, veramente, abbastanza sudata, soprattutto con i tempi, ma Cell ha avuto un ruolo pazzesco, ragazzi. Pazzesco. Quindi, ragazzi, io ho completato anche la challenge rossa, l'ho fatto due volte, l'ho provato due volte, le ho superate tutte e due, ma non con la stella, perché non ho utilizzato l'Extreme come alla prima volta, diciamo, quando l'ho superata, quindi lo dovrò rifare anche con l'Extreme blu. Se vi piacciono questi video, o almeno, se volete un video per ogni challenge che è stata affrontata, fatemelo sapere nei commenti, se no, niente. Tanto alla fine, sembravano molto più complicate, ma in realtà, basta soltanto stare attenti a determinati stage e avere ovviamente i personaggi al 3.000 maxati al 598%, perché bisogna averli al massimo per forza, e cercare quantomeno di costruire un team sensato con full colore, quindi, come vedete, i personaggi servono anche quando sono di colore di colore e basta, quindi quando bustano colore e basta. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!